Una giornata veramente bella, una magnifica giornata per noi dell'ANIF. Al di là che oggi festeggiamo i 20 anni, è stato importantissimo qui in casa di Neri Alessandri aver parlato della nostra legge per la gestione degli impianti sportivi italiani, la legge dello sport che porterà una reale innovazione in questo settore. È attraverso questa legge che potremo da una parte crescere perché essere una società sportiva direttantistica ordinaria significa potersi sviluppare e al tempo stesso non avremo più quelle zone grigie di interpretazione che tanti problemi creano a tutti coloro che vogliono gestire un impianto sportivo seguendo le regole e in totale trasparenza imprenditoriale.